Dopo aver auspicato per giorni un passaggio di potere in Egitto, ora il mondo deve fare i conti con l'incognita del post Mubarak, così il segretario generale delle Nazioni Unite. Ho appena preso la decisione del presidente Mubarak di dimettersi, continuo a monitorare quel che accade in Egitto in questo momento storico, ribadisco l'appello che ho rivolto ieri per una transizione trasparente, ordinata e pacifica. L'alto rappresentante della diplomazia europea garantisce l'appoggio del vecchio continente agli egiziani. A coloro che ora sono incaricati di essere i guardiani di questo periodo di transizione, dico che abbiamo grandi aspettative e che l'Unione Europea sarà lì per offrire il proprio supporto. Abbiamo tanta storia, tante conoscenze, molta esperienza nel costruire la democrazia e offriamo tutto ciò agli egiziani. Da Berlino il cancelliere Angela Merkel chiede che il Cairo confermi la sua politica estera. Il presidente Mubarak ha finalmente fatto un favore al suo popolo nel dimettersi. Ci attendiamo dal futuro governo egiziano che prosegua sulla strada della pace in Medio Oriente, che i trattati con Israele vengano rispettati e che la sicurezza di Israele venga garantita. e che la sicurezza di Israele venga garantita. Grazie mille.